Si inquadra in una capillare attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti e dunque anche il consumo di droghe, l'arresto effettuato lo scorso fine settimana dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sciacca. Arrestata una donna di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata trovata in possesso di oltre 90 grammi di hashish, oltre 20 grammi di marijuana ed ancora 21 grammi di eroina, 9 grammi di olio di marijuana in boccetta, due bilancini di precisione e 1.055 euro in contanti, soldi ritenuti probabile provento dell'illecita attività di cessione della droga. Sempre nell'ambito della medesima attività è stato denunciato un saccenze di 28 anni trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi. Un'ulteriore denuncia alla procura della Repubblica di Sciacca è scattata nei confronti di una donna di 41 anni di Montevago, trovata in possesso durante una perquisizione di 10,60 grammi di mannitolo, 0,30 grammi di crack, 0,34 grammi di hashish e quasi 2 grammi di cocaina. I controlli che hanno portato all'arresto della donna di 40 anni e alle due denunce sono stati effettuati dai poliziotti del commissariato di Sciacca alle prime luci di sabato scorso.